anche questa sera il mostro abbiamo preso eccola qua quattro chili e mezzo giusto fra si 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 quasi c'è in questa porta vediamo se la riesce a prendere ci prendi interi guarda abbastetti metti vicino la gamba ecco qua è la gamba d'alessandro eccola la spigolona mangiata presa spinning con una canna da 5 ottavi g loomis imx un mattimento mozzafiato pescione come potete vedere insieme a matteo merita tanto e merita tanto e come al solito la restituiremo al fiume al fiume magari ci vuole un pochino perché il pesce di una certa importanza ci ha fatto divertire e faticare noi facciamo quello che è giusto per lei ciao bella da dagli aspettavo l'altra ciao 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 ciao